Ciao a tutti, ci troviamo nell'area dove accogliamo le persone che soccorriamo, esattamente da questo cancello le persone saliranno a bordo. Io in quanto medico potrei essere o sul gommone a fare la prima valutazione già sul posto oppure potrei trovarmi direttamente qua. Le persone saliranno passando da questo cancello, il flusso seguirà questo percorso. Alla mia sinistra troviamo il container che ospiterà le donne e i bambini, quindi se volete venire con me possiamo entrare a vederlo. Come potete vedere sulle pareti sono state fatte anche delle piccole decorazioni. Questo container specificatamente verrà anche utilizzato in caso di max emergenza, quindi in cui il flusso dei pazienti è estremamente elevato e quindi verrà completamente riadattata in funzione di poter garantire una risposta ottimale. Possiamo proseguire sempre percorrendo il normale flusso dei pazienti che vengono soccorsi. Ci troviamo più o meno davanti al container medico. In questo preciso punto viene allestito il triage, per cui potremmo facilmente direzionare i pazienti che necessitano di una immediata assistenza medica verso la nostra piccola clinica. Diversamente le persone che non necessitano di assistenza medica procederanno dritti verso quella direzione dove verrà fatta la registrazione e verranno distribuiti i kit che abbiamo preparato. E finalmente eccoci qua nella nostra sala di pronto soccorso che è stata interamente equipaggiata con tutto il materiale che ci potrà essere utile per poter gestire le condizioni di emergenza dei nostri pazienti.